amici della polisportiva cingoli eccoci qua al palacuaresima siamo con il nuovo presidente massimiliano giulioni buonasera e benvenuto in società salve salve a tutti come mai hai deciso di accettare questo incarico e quindi di entrare nel direttivo della polisportiva cingoli giacomo considera che per me la palla manso sempre una passione che mi porto dietro da diversi lustri da parecchi anni quindi diciamo ci siamo sempre appassionati a questo sport ultimamente anche con i miei familiari sempre più addentrati nell'ambito della polisportiva di cingoli e poi naturalmente mi ha stato chiesto di poter far parte del direttivo del consiglio e quindi io ho accettato con un grande piacere con grande onore veramente sono stimolato da questa nuova esperienza tante nuove facce con quale spirito vi ha prestato ad affrontare questa nuova sfida sicuramente è da premettere che non si tratta di una di un cambiamento traumatico e totale sicuramente dobbiamo innanzitutto ringraziare chi è stato mi ha preceduto e da questo punto noi partiamo per migliorare per innovarci per aggiungere qualcosa a quello che di buono già era è stato fatto senza dubbio siamo nella fase calda della stagione la pallafolo ha chiuso il campionato al quarto posto mentre la makaji cingoli di palla a mano in serie a gold si deve giocare la salvezza con il play out qual è il tuo commento sul momento delle due squadre allora siamo per quest'anno la pallavolo ci ha dato delle bellissime soddisfazioni hanno lottato per parecchie giornate vincendo parecchi incontri consecutivamente quindi possiamo sicuramente essere soddisfatti per quanto riguarda invece la serie a uno gold speravamo di non essere di non trovarci a questo punto ma siamo comunque fiduciosi speriamo che i nostri ragazzi siamo convinti siamo certi che i nostri ragazzi continueranno a dare il massimo fino all'ultima giornata e comunque la salvezza al primo anno di serie a gold sicuramente un un importante risultato un importante traguardo che ci rende felici grazie mille e buon lavoro presidente a tutti grazie mille e buon lavoro presidente a tutti